Un'altra ondata di caldo torrido caratterizza il weekend di molti paesi europei e quindi di molti turisti. Si toccheranno punte oltre i 40 gradi con un tasso di umidità elevatissima a causa dell'anticiclone proveniente dall'Africa e diretto in Europa centrale. In Francia i tabelloni sulle autostrade invitano gli automobilisti a fermarsi con frequenza per reidratarsi e raffreddare le loro auto. Molte aree di sosta offrono bottiglie d'acqua gratuite. A prendere paesi più frequenti, un po' più importanti, per s'idratare, per fare il punto e per premonire potenzialmente un rischio di raffreddare il motore. Anche le aree più meridionali abituate alle alte temperature quest'anno sentono la differenza. Roma a metà dello scorso mese ha sfiorato i 43 gradi. In questi giorni la temperatura è scesa di appena qualche tacca, ma l'AFA non impedisce ai turisti più temerari di fare la fila per vedere il Colosseo. Grazie.